Ciao a tutti amici di CryptoGem e benvenuti a un'altra puntata. Oggi abbiamo alcune cose di cui parlare e andiamo anche a vedere il motivo per il quale il mercato non è riuscito a superare nuovamente la zona dei 44.000. Allora, intanto questo è il cello di Bitcoin, come vediamo la situazione non è cambiata per niente, abbiamo rincontrato nuovamente l'ostacolo dei 44.000 qua, come vedete bene. Ed è molto evidente che questa è una zona importante di battaglia fra i Bulls e i Beers. E quello che penso io solitamente è quello che succede che quelli comunque che comprano i trade, che comprano qua, dopo fanno il loro take profit. Ci sono comunque già piazzate degli ordini di vendita molto forti in queste zone, perché c'è gente che cerca di uscire anche dal mercato. Perché in una situazione di paura del genere c'è molta gente che cerca di uscire dal mercato. Sia gente che ha comprato qua, gente che prende profitto, poi c'è la correlazione con lo stock market. Abbiamo visto ieri il Nasdaq scendere sotto i 14.000, ieri notte. E come ho detto, secondo me ancora non ha finito la sua corsa a ribasso. Se vedete qui, questo l'avevo segnato ai ragazzi, ci abbiamo anche, fatemi cancellare questi. Ci abbiamo un evidente trend ribassista anche, non so perché è nero. Ci abbiamo un evidente trend ribassista, qua, che io avevo già segnalato sul Discord, per il quale ogni volta che cerca di salire verso l'alto, il Nasdaq sta facendo dei lower low e dei higher low. Quindi quello che sicuramente succederà è che la continuazione a ribasso del Nasdaq porterà giù anche Bitcoin per un po' di tempo, finché questa correlazione non si distaccherà, cosa che noi stiamo aspettando già da un po'. Però per il momento, quello che posso vedere, intanto è stata rotta una trend line molto importante su Bitcoin, questa qui che andava avanti ormai da mesi, come vediamo è stata rotta in questo punto e è stata ritestata in questo punto. Quindi è stata una rottura con ritesta sulla trend line. Quindi è una cosa abbastanza buona. Non ha avuto la forza di superare questa zona, trova l'ostacolo dei 44.000, quindi è stata rigettata più e più volte. E sicuramente quello che può essere sta formando ancora una volta il triangolo, il descending triangle, che è sempre un bullish triangle, perché comunque tende a rompere sempre verso la parte quella orizzontale per il 70-60% delle volte. Quindi attendiamo di vedere, però almeno adesso sappiamo i nostri ostacoli. E come ho detto la 200 EMA ancora non è stata superata, siamo sempre lì, anzi è andata a incrociarsi proprio con la zona dei 44.000 per rafforzarla. Quindi io ero molto sicuro che sarebbe stato difficile attraversarla. Difatti quando siamo arrivati a 45, ho detto ai ragazzi, niente fomo, è una zona molto difficile da superare. Quindi attenzione a fumarsi con il fatto che siamo in questa zona qui. Per quanto riguarda le notizie oggi, allora vediamo il convoglio che è stato mandato, che al momento non è ancora entrato nella città, è ancora fermo al di fuori. E quindi non si capisce bene cosa sta succedendo, se è una cosa, se stanno aspettando qualcosa, degli accordi, se stanno preparando. Però una cosa buona, almeno per l'Ucraina, è che la Russia comunque ha patteggiato su questa cosa di creare un corridoio umanitario per gli aiuti della popolazione, quindi mandare cibi e tutti gli aiuti che servono per continuare a far, diciamo, sopravvivere almeno la popolazione interna e aiutarli con medicine, cure e tutto quanto, che è una cosa per il momento comunque meglio di niente. Ma il pericolo vero, quello che ha visto andare giù sia tutti i mercati, compreso Bitcoin, che il mercato degli stock, è stato il fatto del bombardamento che c'è stato, comunque ha preso fuoco una centrale nucleare molto pericolosa, mi sa che è la più grande in Europa, se non sbaglio, cose del genere, e dicono che l'esplosione sarebbe dieci volte peggio di quella di Cernobil, se dovesse succedere. E quindi vediamo che il fuoco è stato per il momento spento ed è sotto controllo, ma la battaglia intorno a questa centrale continua e ovviamente il Presidente ha fatto una richiesta dicendo calmiamoci, va bene che siamo dentro a una guerra, però se questa cosa dovesse esplodere sarebbe peggio di quello che noi pensiamo. Quindi attenzione a quello che sta succedendo intorno a questa centrale, perché potrebbe essere non solo un disastro per l'Ucraina, ma sicuramente lo sarebbe sia per la Russia, sia per l'Europa, che per tutti i paesi del mondo. Perché comunque, come sapete, se ci dovesse essere anche un rilascio, nel peggiore dei casi un'esplosione, i venti e tutto quanto porterebbe in giro per il mondo, diciamo, le radiazioni nucleari, quindi sicuramente non farebbe bene a nessuno. Speriamo ovviamente che non succeda niente, però sapete, siamo in una guerra, tutto può essere, tutto è possibile, quindi ovviamente io spero sempre che questa cosa finisca il prima possibile. E poi vediamo che le sanzioni continuano contro gli oligarca, quelli russi, e sinceramente una cosa che la gente si aspetta erano sanzioni più dal punto di vista dell'esportazione, cioè per esempio del petrolio, del grano, di tante cose che la Russia utilizzava, perché comunque continuano a sanzionare ovviamente la gente, i ricchi russi, abbiamo visto che adesso stanno facendo nuove tasse, soprattutto mirate a loro, li impediscono di fare business, penso che sia una strategia comunque a lungo termine, in senso che quello che loro vogliono raggiungere sicuramente è un, perché sicuramente la gente ricca in Russia potrebbe comunque appoggiare molto il governo da questo punto di vista, quindi quello che cercano di fare è forse di mettere contro Putin i ricchi o la gente potente della Russia, in modo che loro a un certo punto si organizzano e vedano un modo per fermare questa cosa. Non so se è così, non conosco bene come funzionano le mentalità russa di quella gente, però sicuramente se io fossi una persona potente, è una persona ricca, un businessman o quello che è, e mi vedo in giro per il mondo, perché sappiamo che i russi investono tantissimo in giro per il mondo, cioè io vivo qua a Londra e so che ci sono le zone quelle più ricche di Londra, ci hanno investimenti russi di case, macchine, business, hotel, ci hanno un po' di tutto, e quindi sicuramente io se fossi una persona potente, cioè diciamo che c'è una buona influenza anche nello Stato, e mi vedo portare via tutto, diciamo questi soldi, a un certo punto comincerò un po' a incavolarmi, quindi forse questa è una cosa che a lungo termine potrebbe fare rivoltare i potenti, diciamo contro Putin, anche se sappiamo che Putin comunque ha un pugno di ferro molto forte sulla popolazione. Intanto continuano le donazioni tramite Bitcoin e diciamo altri asset, abbiamo visto Pocodat, abbiamo visto Ethereum e altri asset che vengono donati all'Ucraina, fino adesso hanno raggiunto una cosa come 54 milioni come Bitcoin, e questo non è una grande cifra sicuramente per il fatto che ne spendono miliardi durante la guerra, ne perdono miliardi, però sicuramente mostra come questa tecnologia può servire in questi tipi di casi di aiuto, perché se non ci fosse stato Bitcoin a quest'ora comunque è anche un minimo, è difficile le donazioni, portare soldi, è molto molto difficile, invece in questo caso, poi ho visto anche che stanno vogliono fare degli NFT, quindi vogliono fare una vendita di NFT, una cosa fantastica, e tutti pensano che gli NFT sono soltanto dei personaggi animati da vendere, in verità gli NFT possono essere usati anche per queste ragioni, quindi aiuti umanitari. Abbiamo visto anche Elon Musk, qua ha fatto un tweet, in cui praticamente se vi ricordate dall'ultima puntata, aveva mandato dei satelliti di Starlink, che comunque dovrebbero aiutare con le connessioni e tutto quanto, e si è impegnato anche di fare gli update, quindi fare l'update del software, per renderlo comunque, per far sì che consumi meno elettricità, e che sia diciamo molto più facile da usare, e che non richieda molto, infatti qua dice se può usare anche il caricabatteria della sigaretta elettrica, cioè dell'accendino elettrico di una macchina, addirittura per farlo funzionare. Un'altra cosa abbiamo l'expiration degli option, che è successa ieri, ne abbiamo altre in arrivo, molti dicono che forse questa che ha fatto andare bitcoin a ribasso, può essere, non lo sappiamo, comunque gli open interest sono molto alti dal punto di vista dei buyers, quindi vediamo come andrà a finire, sicuramente non voglio speculare su questa cosa degli option expression, perché comunque è molta speculazione, e non mi sembra il caso in questo momento, essendo che il mercato è guidato un po' da paura, da i sentimenti e da tanti altri fattori, che in questo momento mi sembra molto più realistico analizzare. Cosa importante, OpenSea e Metamask, comunque sappiamo che tutti usiamo Metamask, sono stati, hanno bloccato, hanno bloccato alcune country, quindi c'è stata, mi sa, ieri, Iran, Cuba, Siria, e altre cose, altri user, diciamo, di quelli stati, sono stati bloccati dall'uso di Metamask e OpenSea, e anche questa è una di quelle cose che molti non hanno preso benissimo, perché sappiamo che sono sistemi, diciamo, in teoria, dovrebbero essere decentralizzati, quindi non dovrebbero essere in mano a nessuno, evidentemente se andate a leggere i termini e le condizioni di Metamask, per esempio, c'è scritto che loro seguono alcune leggi, quindi se per esempio un paese banna l'uso, o sono vietate contro la legge l'uso, di quella tecnologia, è molto possibile che il vostro Metamask venga bloccato, poi a quel punto non so come funziona esattamente, se venga bloccato il vostro Metamask, però ovviamente questa è una cosa che fa riflettere molto, cioè noi veramente siamo in un sistema decentralizzato, secondo me la risposta è no, e non sarà mai del tutto decentralizzato al 100%, qualcosa deve essere sempre controllato da qualcuno, è molto difficile raggiungere il 100% della decentralizzazione, di qualcosa sicuramente, e quindi secondo me più questa tecnologia verrà adottata, meno sarà decentralizzata, cioè in senso ovviamente i servizi saranno decentralizzati, però sicuramente il potere calerà molto, e non sarà come prima in mano agli user, come magari poteva succedere tempo fa, vediamo che comunque non è un fatto, la decentralizzazione ormai non sta neanche più diventando il fattore reale, per il quale si scelgono le criptovalute, difatti molti i più massimalisti diciamo delle criptovalute, sono quelli che sono nati per il fatto della decentralizzazione, quindi togliere potere agli organi centralizzati, in verità le criptovalute si stanno trasformando come una nuova tecnologia, e come un metodo di investimento, quindi è vero che tolgono potere molto alcune cose, per esempio le banche, perché tu hai più controllo, quindi faccio un esempio, io ho molto più controllo sui miei soldi, e ovviamente nel DEFI, quindi nel decentralized finance, io posso guadagnare interessi sui miei soldi, senza che le banche prendino, guadagnano il 7-8%, a me mi danno lo 0,05%, quindi quella è già una forma di potere, che ritorna in mano alla gente, il fatto però che tu sei in controllo totale al 100% dei tuoi soldi, quello è molto molto difficile, ovviamente abbiamo sempre l'opzione, che come altri asset non abbiamo, di prendere i bitcoin, metterli in cold storage, quindi ci sono i wallet anche portatili, e tenerli lì, nessuno può sequestrarti sicuramente, ma anche sulla blockchain, se fai un wallet digitale, quindi quello sicuramente è un tipo di controllo diretto, non tanta gente piace fare questa cosa, perché molta gente ha paura, ha paura di mettere troppi poteri in mano a se stessa, la responsabilità, se avessi tipo un milione di euro, anche io avrei paura di metterlo, per esempio in un sistema completamente decentralizzato, perché se perdessi la frase segreta, o mi venisse rubata, o si distruggesse, o si rovinasse il wallet, o qualcosa succedesse, diciamo qualunque cosa possa succedere, anche per colpa mia, io poi conoscendomi, non sono una delle persone più organizzate al mondo, perderei tutti i soldi, preferirei sicuramente usare una via di mezzo, tra decentralizzazione e centralizzazione, e penso che l'80-90% della popolazione, sia un po' come me, e quindi sicuramente, per alcune cifre, ovviamente si prende 10-15-20 mila, si possono ancora usare sistemi, completamente decentralizzati, ma quando comunque la cifra diventa sempre più grande, la responsabilità verso te stesso diventa più grossa, diventa difficile affidarsi a un sistema completamente decentralizzato, e prendere tutta la responsabilità di qualunque cosa possa accadere, e sarà sempre così, quindi sicuramente sarà una nuova tecnologia, molto usata, darà molto potere in mano ai possessori, diciamo dell'asset stesso, perché come la discuto sempre con molta gente, soprattutto nei commenti, vedo questa gente che ottusamente continua a ripetere la storia dell'oro, 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 però se per esempio adesso scopresse una guerra, e diciamo che tu, perché quando compri oro sul mercato economico, cioè se vai su etoro e compri l'oro, tu in verità non stai comprando l'oro, tu sei su un server che può essere chiuso, o se succede una guerra verrebbe chiuso domani mattina, quindi il tuo investimento nell'oro non varrebbe più niente, chi investe veramente nell'oro, sono quelli che comprano l'oro fisico, proprio i lingotti, li conservano, quello è un vero investimento nell'oro, non andare a comprare l'oro su un exchange, o su qualunque altra cosa, quello non è comprare l'oro, non è investire nell'oro, quindi quando io faccio un paragone tra l'oro e bitcoin, non è che faccio un paragone sul fatto che, chi fa più percentuali, chi ne fa di meno, è anche un fattore di rischio, cioè se domani mattina dovesse succedere una guerra in Europa, e evitiamo che le banche cominciano a chiudere, per esempio i beni della gente, quindi chiudono tutto, i sistemi centralizzati vengono bombardati, quindi te i tuoi soldi non puoi più recuperarli, una via di fuga sicuramente, non è avere due tonnellate di oro e scappare con due tonnellate di oro, non è neanche realistica la cosa, quindi è per quello che bitcoin può essere visto come un'alternativa, per il semplice fatto che puoi mettere un miliardo di dollari in bitcoin, salvare la frase segreta nel tuo cervello, o scrivertela da qualche parte, o comunque diciamo memorizzarla, per chi ha una memoria forte, e scappare, e quindi una volta finito tutto il disastro, con una frase nel cervello puoi recuperare un miliardo di dollari, avere chili di oro dietro e scappare, non è realistico, quindi questa continua discussione sull'oro e bitcoin, questa è la ragione reale, per il quale la gente ricca che c'ha miliardi, è inutile che va a mettere miliardi nel mercato degli stock, potrebbe comprare Apple allora a questo punto, non avrebbe senso, quindi o Amazon o qualunque altro stock, quindi non è che va a mettere su un sistema centralizzato, non cambierebbe niente, dovrebbe comprare proprio l'oro fisico, ovvero e proprio, come si compra bitcoin? Perché bitcoin è una forma di oro digitale, perché proprio puoi comprarla, detenerla e che si attua al 100%, poi vediamo, allora c'è stato un altro NFT, questa volta abbiamo Michael Jordan su Solana, quindi abbiamo i suoi NFT, vediamo che sempre più celebrità continuano a fare i loro NFT, lanciarli e fare tante, tante cose, e sicuramente non da ignorare gli NFT, un modo anche sicuramente per, come abbiamo visto in Ucraina, per aiutare alcune popolazioni, cioè comunque possono creare sistemi, o comunque donazioni decentralizzate attraverso gli NFT, e poi sicuramente possono essere usate per tanti altri casi, che magari abbiamo già visto, come il vendere case, vendere certificati di proprietà, o tantissimi altri casi d'uso. Questo è il marketplace, poi VeChain, ragazzi che tanti mi chiedono di VeChain, 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 come ho detto VeChain e altre tecnologie sono molto all'inizio, infatti vediamo intanto che la fondazione, ha appena detto, che hanno fatto il minting, del primo milione di VUSD, e se vi ricordate un po' di tempo fa, ho fatto il video, sulla stablecoin di VeChain, che sta per uscire, e la stablecoin ovviamente è una tecnologia, che quando viene messa su una blockchain, dà molto valore, perché ovviamente dà liquidità, abbiamo visto come l'una o altre, con la loro stablecoin, hanno fatto dei salti di qualità molto molto grandi, VeChain altrettanto, a parte ieri è un'altra notizia, è stata quella dell'accordo con il governo cinese, ma questo si sapeva già, tanti mi dicevano, ah no ma il governo cinese bannerà anche VeChain, no, perché comunque non sono, quando sono andato a vedermi VeChain, ho visto molti legami con il governo cinese, loro sanno dove stanno operando, ed è una tecnologia che serve, fidatevi che è una tecnologia che serve, non ne puoi fare a meno, cioè non esiste, non ne puoi fare a meno, è una tecnologia che serve per traccare, ho fatto anche un video su VeChain, andatelo a vedere, che spiega esattamente perché serve questa tecnologia, e quindi il governo cinese la userà sicuramente, e negli anni diventerà sempre più influente, sempre più grande, quindi per quello dico, non guardate VeChain, non è ancora uscito un sacco di cose, il loro DeFi, il loro stablecoin, marketplace, NFT, metaverse, niente di questo è ancora fuori, stanno ancora lavorando su tantissime cose, o le stanno rafforzando, quindi non ignorate queste tecnologie, quando sono a questi prezzi, e quando hanno questa prospettiva, perché il giorno che dopo farà il 70 centesimi, centesimi, un dollaro, so già la classica frase, sarà, è ancora buono da comprare a VeChain secondo te, posso ancora entrare in VeChain, frase che classicamente, ho sentito dire, per gli ultimi mesi, quando facevano le loro esplosioni, come Luna, o come Atom, o come tantissimi altri, che hanno fatto il loro pump, la gente ovviamente aveva paura di investire, perché il loro prezzo, non era infomato, poi, un'altra cosa, a cala, ok, Pocodank, anche questa, nuova stablecoin, anche qua, come vedete, queste tecnologie sono ancora in via di sviluppo, perché la gente pensa che magari queste tecnologie sono finite, e quindi stanno facendo male, ma queste tecnologie sono, se dovessimo calcolare un percentuale, sono al 10-20% della loro vita, cioè, della loro, della loro potenzialità, quindi, se voi entrate per esempio in DOT, adesso che è 17 centesimi, si aggirava fra i, vediamo un po', ok, DOT si aggirava fra i 50 dollari e i 15 dollari, quindi stanno parlando di una cosa come, un 247% dall'all time high, ok, quindi, ed è una cosa che ha fatto spesso, come vedete, perché? perché è uno small, cioè, è un medium cap, non è un cap così grande, non è di trilioni, quindi si muove molto velocemente, sia su che giù, quindi sicuramente comprare queste tecnologie, che adesso stanno sviluppando le loro stablecoins, che hanno dimostrato di avere dei team capaci, che sanno quello che fanno, abbiamo visto che comunque, istituzioni investono in queste cose, quindi non soltanto i ragazzini, o gli animatori, gli amanti di queste tecnologie, ma anche veri e propri investitori, e fondi di investimento investono in queste tecnologie, e comprarle sicuramente in zone come questa, ok, sono in zone sicuramente molto evidenti di accumulo, e detenerle per alcuni anni, sicuramente vi porterà un beneficio a lungo andare, di fatti questo è un gioco a lungo termine, c'è proprio questa considerazione, molta gente pensa che questo sia un gioco a breve termine, quello delle criptovalute, e penso che essere scottati più volte, dopo un po', vi faccio capire che in verità il gioco è più lungo di quello che sembra, è vero che qualche giorno fa ho fatto un video su luna, e ho fatto il 100% luna dopo, però questo non vuol dire che luna non possa scendere dell'80%, assolutamente no, quindi bisogna avere una strategia sia di entrata sia di uscita, in tutto quello che si fa. Un'altra cosa di cui parlo spesso, Cadena che lancerà il suo primo DEX, come vediamo in Q1, e anche qui la stessa cosa, abbiamo visto il video su Cadena quando l'ho fatto, di tutte le tecnologie che vogliono fare, abbiamo visto il team molto molto forte, e questa è una di quelle che io dico di non dormire, una di quelle che io penso farà come Solana, quando Solana è partita e valeva 3-4 dollari, e poi ha fatto una cosa come 250 dollari, quindi penso che questa in futuro sarà una cosa simile a Solana, come quella che abbiamo visto, e quindi ragazzi non dormite su queste cose, ci vedremo sicuramente tra qualche mese e ne riparleremo, magari fra un anno, un anno e mezzo o due, e vedremo di nuovo a sto video, diremo avrei voluto comprarne di più. Per il momento è tutto ragazzi, se vi è piaciuto il video magari lasciatemi un commento sotto, fatemi sapere com'è, rispondo appena possibile ai commenti o tutto, vedo tutto però essendo che sono molto occupato, cerco di rispondere quando posso, e mettete like se vi è piaciuto. Per il momento è tutto, ci vediamo alla prossima puntata.